Amiche e amici appassionati di grande Champions League, buonasera e benvenuti su Morino Spocione e ragazzi. La Juventus, nonostante una partita obrobriosa, bruttissima, terminata con un anonimo 1-0 contro il Malmo, gol di Moise Ken, si porta a casa il primato nel gruppo H, grazie all'impresa da parte del Chelsea, che riesce a pareggiare 3-3 in extremis contro i campioni d'Europa allenati da Tuchel, grazie ad un gol del mago Ozoiev, al minuto 94, un gol fra l'altro bellissimo. Amiche e amici appassionati di grande Champions League, buonasera e benvenuti su Morino Spocione e ragazzi. Parliamo un attimo di queste due partite particolari di quella della Juve che ho visto, appunto di Champions. Allegri sperimenta, fa giocare dei vinter titolari e tutto, però ho visto una squadra, come dice Trevisani, in Telecronaca su Medesetti Infinity, che è dove nessuno fa più del compitino. Ed è normale che poi ti va a vincere 1-0 con un'invenzione da parte di Bernardeschi, che fa un cross con la trivela bellissima alla quaresma verso Ken, che deposita in rete. C'è da dire però, grandi responsabilità da parte del portiere svedese di Avarà, che è veramente, davvero, inguardabile di Avarà. Per quanto riguarda la partita, che cosa c'è da dire? Avarà chiaramente, da un punto di vista della nazionalità, è maliano però, dico svedese per riferirmi appunto al tutto il Malmo stesso. Per quanto riguarda altro, che dire? Una Juventus che non... Cioè, io vedevo che c'erano errori non soltanto da un punto di vista della manovra, ma anche proprio individuali, errori di passaggio, proprio errori geometrici, fattuali. Cioè, questa squadra non è assolutamente precisa. E quando le decisi sono, non si ha la realizzazione buona. Poi magari, lasciamo stare, tirano quando non dovrebbero tirare. Partita, rende una delle più brutte partite della Juventus in questa stagione. E ce ne sono state tante. Per essere brutta, deve essere davvero brutta, 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 brutta. E lo è stato. Perché questa è una vittoria del Malmo, una vittoria del Malmo, che è arrivata a Torino con l'intento di prendere il meno gol possibile. Ne ha preso soltanto uno. Ora, parliamo un attimo del passaggio del turno. Per il quarto anno di fila la Juventus passa il girone come prima, mi sembra. Io sto andando molto a memoria, molto, molto a memoria. Quindi avremo il piccolo vantaggio di giocare la seconda partita in casa. Vi ricordo che da quest'anno non c'è più la regola del gol in trasferta, che vale doppio. Quindi gol in casa e gol in trasferta hanno la stessa valenza. Però abbiamo il vantaggio sicuramente di poter beccare una seconda del girone. Chiaramente ci sono, per quanto riguarda la Champions League, ci sono già alcune squadre, alcuni gironi che sono appunto terminati. E quindi la Juventus potrebbe prendere o il PSG, proveniente dal gruppo A, o l'Atletico di Madrid, proveniente dal gruppo B. Dal gruppo C lo Sporting Lisbona secondo, perché il Dortmund non è riuscito a passare. Dal gruppo D l'Inter non può essere beccato, chiaramente, dalla Juventus. Nel gruppo E è da decidere stasera fra Benfica e Barcellona, col Barcellona che sfiderà il Bayern, una partita più facile per il Benfica, che sfiderà la Diogo Kiev. Poi nel gruppo dell'Atalanta è da vedere chi vincerà fra Villareale e Atalanta, passare il turno. Chiaramente Villareale ha due risultati su tre a disposizione. E in caso chiaramente dovesse passare l'Atalanta, è chiaro che non ci sarebbe una seconda papabile da questo girone, poi ci sarebbe il girone meme, quello fra Lille, Salisburgo, Siviglia e Wolfsburg, dove potrebbe succedere davvero di tutto. Io spero che la Juve non becchi la squadra più scarsa fra le seconde, perché poi uscire in quella maniera sarebbe un déjà vu continuo, un déjà vu continuo dei Lione, un déjà vu continuo dei Porto. Detto questo, ragazzi, io spero che vi sia piaciuto, se fosse così, like, mi piace, commenta e iscrizione, condividete il video un tizio vostro, ci passate alla nostra pagina Instagram, Morino Sport, gruppo Telegram Morino Sport, c'è nel Telegram. Vediamo un po' di cosa ne pensate, se ho tolto nei commenti di questo super davvero insufficiente, ci vado a un prossimo video. Ciao belli!